L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Il centro-destra scalda i motori per le comunali di Crotone. Al nostro Tg parla il candidato Manica e dice ci sono i presupposti per fare bene. Furti d'auto con cavallo di ritorno. Arrestate 13 persone nel Cosentino accusate di ricettazione, furto ed estorsione. Due vittorie importanti per le calabresi di Serie B. Il Crotone è sempre più proiettato in ottica promozione e il Cosenza invece spera ancora nella salvezza. Ben ritrovati con la nostra informazione. In apertura, come avete visto dai nostri titoli, si va verso le comunali a Crotone. L'avvocato Antonio Manica è il candidato del centro-destra. In queste ore la coalizione Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sta lavorando al programma. Vi facciamo vedere la sua prima intervista televisiva. Antonio Manica, 54 anni, sposato, due figli, avvocato, tributarista e il candidato sindaco del centro-destra alle comunali di Crotone. Laurea in giurisprudenza a Siena, specializzazione a Milano, iscritto all'albo dal 1994. Sul suo nome Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno concordato ampiamente e lui ha accettato di mettersi in gioco. Posso, ritengo, di poter dare un contributo. Da parte mia c'è l'impegno, posso garantire l'impegno, professionalità, serietà. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Quando è stato fatto il mio nome, quando sono stato contattato dal coordinatore, dall'onorevole Torromino, mi ha prospettato una serie di idee, programmi che io immediatamente ho condiviso. Mi ha garantito l'appoggio suo del partito, ma in modo particolare mi ha garantito anche che ci sarebbe stato l'appoggio delle altre forze politiche di Crotone e del centro-destra. Così è stato. Ho avuto attestati veramente di stima e di grande affetto da parte di Fratelli d'Italia, della Lega, tra l'altro molti di questi che sono amici miei, quindi ci siamo cresciuti. Per cui sono contento, sono fiducioso, molto fiducioso. In queste ore la coalizione sta definendo il programma elettorale, ma Manica accetta ben volentieri di anticipare qualcosa ai nostri microfoni. Grande attenzione nel programma di Antonio Manica avranno la scuola, lo sport e il recupero delle periferie. È vero. Siamo addirittura ad arrivo con la definizione del programma, che dovrà essere condiviso con tutte le forze e chiaramente ci incontriamo nei prossimi giorni. Per me le priorità sono queste. Innanzitutto il degrado delle periferie. Crotone non è una città che merita quello che si vede alle entrate di Crotone. Noi dobbiamo recuperare quella che è la normalità di una città. Purtroppo siamo stati abituati a vivere nel precario. L'avvocato Manica tra le sue passioni coltiva da sempre quella per lo sport, tra l'altro è anche giudice sportivo. Riesci a giudicare bene? Oddio, non bisognerebbe chiederlo ai giocatori o ai dirigenti che sono stati vittime delle mie decisioni. Io sono da tanti anni, dal 1995 giudice sportivo a Crotone. Li conosco tutti, è un ambiente familiare. Infine, ecco perché chiede il sostegno ai crotonesi. Io metto a disposizione questa mia cultura professionale, ma in primis la mia passione e il mio impegno per poter risolvere i problemi della mia città. Speriamo bene. Oltre 120 carabinieri impegnati nell'operazione denominata Gypsy Village e condotta nel villaggio Rom di Via degli Stadi a Cosenza contestati reati di furto, ricettazione e distorsione ed eseguiti 13 arresti tra Cosenza e Messina. E' scattata stamani un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza denominata Gypsy Village contro un gruppo criminale operante nel villaggio degli Zingari. L'operazione ha interessato Cosenza, ma anche i centri di Montalto Fugo, Torano Castello e Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese. Gli investigatori hanno disarticolato un gruppo criminale specializzato nell'attività estorsiva chiamata Cavalli di Ritorno. Oltre 120 carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emessi dal GIP di Cosenza sul richieste della Procura della Repubblica nei confronti di 13 soggetti, tutti già noti alle forze dell'ordine, indagate a vario titolo per concorso di ricettazione, furto ed estorsione. In particolare due persone sono state portate in carcere, nove ai domiciliari, mentre ad altri due sono stati notificati rispettivamente un obbligo di firma e uno di dimora. Il gruppo che opera su Cosenza, secondo l'accusa, è dedito ai furti di auto e alla restituzione in cambio del pagamento di somme di denaro. Uno degli indagati era stato arrestato per altri reati e per questo si trovava nel carcere di Barcellona a Pozzo di Gotto dove gli è stata notificata la misura cautelare. Le vittime spesso venivano avvicinate nei pressi dei luoghi dove avvenivano i furti e per la restituzione dei mezzi venivano chiesti da 800 a 2000 euro che dovevano essere portati in contanti direttamente al villaggio degli Zingari. Durante l'attività di indagine sono state trovate 36 auto restituite poi ai legittimi proprietari. I medici dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza insieme a quelli di Catanzaro sono al lavoro in queste ore per rintracciare tutti i passeggeri del volo proveniente da Londra e atterrato alla mezza terme sabato 11 luglio a bordo del quale ha viaggiato un cittadino di Bottricello positivo al covid-19. L'uomo appena rientrato in Italia si è sottoposto ad un esame sierologico e visto il risultato gli è stato fatto un tampone che è risultato appunto positivo ad un secondo tampone invece il risultato negativo. Al momento non presenta alcun sintomo riferibile al coronavirus e nelle prossime ore sarà effettuato un terzo tampone rino faringeo. Sul volo erano presenti un centinaio di passeggeri rientrati in alcune località del Tireno Cosentino e del Catanzarese che saranno sottoposti dal personale medico ai tamponi di controllo. Tutti i passeggeri dovranno comunque rispettare il periodo quarantena. Combattere la dispersione scolastica e togliere più ragazzi dalla strada significa anche non consentire alla criminalità organizzata di attecchire e crescere. È uno dei passaggi dell'intervento di Lucia Azzolina, ministro della pubblica istruzione all'Ocri per la firma del protocollo sull'avvio di campi estivi per studenti in beni confiscati alla criminalità organizzata. Vediamo. Campi estivi per mille ragazzi nei beni confiscati alla criminalità organizzata li prevede il protocollo di intesa siglato all'Ocri dal ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, dal presidente della commissione antimafia Nicola Morra alla presenza del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri con cui vengono avviati per gli studenti percorsi di educazione alla legalità. Il protocollo parte dalle attività che si svolgeranno quest'estate fra luglio e agosto nei beni sottratti alla criminalità organizzata e gestiti dalle cooperative sociali in quattro regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Da Casal di Principe a Cerignola, da Corleone a Isola Capurizzuto sono stati individuati dei luoghi simbolo in cui svolgere le attività formative che puntano a fare diventare i giovani sentinelle attive nel contrasto a tutte le mafie. Diamo una mano alle famiglie che economicamente sono un po' più svantaggiate che non potrebbero permettersi neanche una piccola vacanza per i loro figli ma soprattutto diciamo che la scuola c'è, lo Stato c'è, che i nostri giovani devono scegliere le regole, devono lottare contro ogni forma di corruzione perché coloro i quali provano a prendere i nostri giovani in quei meccanismi di corruzione gli stanno togliendo la libertà. Il procuratore Gratteri ha auspicato che il governo investa sulla scuola aumentando tutte le attività curriculari ed extracurriculari da svolgere anche di pomeriggio per togliere i giovani dalle strade. Sono la fascia più vulnerabile perché facilmente manipolabili da trasmissioni dannose per loro, da fake news, da continue notizie false, artatamente false per cercare di demolire o disminuire persone per bene che hanno un alto senso dello Stato e che credono nello Stato e comunque malgrado queste provocazioni o queste bassezze non mollano. Dopo la firma il ministro Zolina e il presidente Morra hanno visitato l'ostello Locride, uno dei beni dove si svolgeranno i campi estivi gestito dal gruppo cooperativo Goel che da anni si oppone all'andrangheta costruendo un modello di sviluppo etico per la Calabria. Questa mattina il comune di Crotone ha preso possesso del Palamilone forzando i lucchetti in quanto non ha ricevuto le chiavi da parte del consorzio Momenti di Gloria. Sentiamo l'avvocato Giuseppe Trocino tra i legali del consorzio sportivo. Sì, diciamo un colpo di scena inaspettato, nel senso che oggi era un appuntamento fissato, programmato e ordinato dal comune per la restituzione delle chiavi e come state vedendo anche voi hanno provveduto a rompere i lucchetti, stanno entrando e poi attendiamo di conoscere gli sviluppi di questa vicenda come sicuramente attende di conoscerli la città. I prossimi passi del consorzio invece? Abbiamo un appuntamento programmato per il 21 di luglio al Ministero dello Sport, siamo stati convocati dal Ministero che ha delegato il comune per delegarci, quindi in quella sede sarà presente il comune, sarà presente il consorzio con la sua delegazione e si cercherà di capire se a Crotone lo sport è in grado di ripartire oppure se le associazioni sportive devono morire e se i giovani e i ragazzi devono rinunciare a praticare lo sport e magari dedicarsi ad altro. Un progetto di marketing territoriale strategico, parliamo dei distretti del cibo calabresi, l'iniziativa verrà presentata anche a Crotone il prossimo 17 luglio e sarà volta a promuovere il nostro territorio attraverso i suoi prodotti tipici e non solo, i dettagli nel servizio. Anche la Regione Calabria potrà riconoscere ed attivare i distretti del cibo grazie all'intesa raggiunta in conferenza Stato-Regioni tra il Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo e la Regione Calabria. Riteniamo che questo strumento del distretto del cibo possa rappresentare un'occasione di sviluppo per il nostro territorio, di sviluppo nel senso che comunque consentirà di poter mettere in evidenza quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Oggi parliamo di agricoltura ma insieme all'agricoltura e insieme al cibo c'è la filiera naturalmente la filiera enogastronomica in generale ma ci sono i beni culturali, ci sono i beni ambientali, i beni ecclesiastici, tutto da mettere a sistema al fine di promuovere quello che le tipicità del nostro territorio ci consentono di poter in qualche modo vendere all'esterno del nostro territorio. Potranno costituirsi in distretto gli imprenditori agricoli, singoli o associati, le imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le società cooperative, le organizzazioni di produttori, associazioni di categoria, imprese del settore ittico e della pesca, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio, ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico, gruppi di azione locale ed enti pubblici. Finalmente la costituzione di stretti del cibo in tutta la regione, stiamo facendo un lavoro di promozione e sensibilizzazione sul territorio regionale, l'appuntamento clou è proprio quello del 17 a Crotone perché si è già divenuti a una bozza di delibera di giunta, quindi un passaggio fondamentale rispetto a quello che è l'azione ministeriale, è importante quello che il contributo dell'assessore Gallo ha dato in questa iniziativa che ormai sono due anni di sensibilizzazione che sta creando sul territorio la giusta motivazione per creare un distretto e quello del crotonese è sicuramente uno dei più importanti. E adesso lo sport, due vittorie importanti per le calabresi di Serie B, il Crotone sempre più proiettato in ottica promozione e il Cosenza vince e spera nella salvezza. Sentiamo i due allenatori. Mancano ancora delle partite e quindi ci sono ancora punti in palio, adesso dietro abbiamo lo Spezia mi sembra, che comunque corre, corre più o meno come noi, dobbiamo essere bravi perlomeno a mantenere questo distacco, però benissimo perché come avevo previsto. La partita sera è stata veramente molto dura e quindi i ragazzi hanno fatto una prestazione superlativa come poi del resto l'hanno fatta alla partita precedente con il Cittadella e non era semplice perché comunque quando affronti una squadra che lavora molto bene in fase difensiva così e sistematicamente ti cerca di beccare alle spalle con queste palle in verticale ti può mettere in difficoltà. Però abbiamo lavorato molto bene, potevamo chiuderla con l'occasione di Messias nel secondo tempo però non abbiamo corso grossi pericoli se non queste mischi verso la fine della partita. Potevamo chiudere la partita in più occasioni però c'è la stanchezza, giochiamo ogni tre giorni, il cuore dei ragazzi sta andando oltre e devono continuare così. Sapevamo che a un certo punto dovevamo fare una partita di sacrificio, l'abbiamo condiviso questo pensiero, come abbiamo condiviso in queste gare il pensiero di giocare la palla, adesso abbiamo iniziato a condividere anche quello di dover soffrire insieme, togliere qualcosa di più alla bellezza, essere un po' più brutti. I ragazzi oggi hanno una risposta fantastica, questo è un gruppo che c'è, un gruppo che è presente, mi migliora giorno dopo giorno come allenatore, mi sta facendo crescere tanto e quindi sono felice che il mio obiettivo era portare 25-26 ragazzi a darci una mano, a darmi una mano e ci sono riuscito, ci stanno dando una mano tutti, sono dei ragazzi fantastici. Ci stiamo provando con tutte le forze, sappiamo che ci sono ostacoli, dobbiamo sempre tenere la testa però sul pezzo e sull'obiettivo, ci proveremo fino alla fine. E per quanto riguarda la nostra informazione è tutto, io vi ringrazio per averci preferito, continuate a rimanere sul 18, arrivederci.